buongiorno a tutti e benvenuti questo motovlog oggi finalmente con le gomme gonfie e induttati come sempre siamo con Rez un amico da Vicenza che studia qua con me a Trieste Ducati 796 scarichi scproject e siccome ieri ho dato l'ultimo esame passato bene e oggi andiamo a farci un bagnetto in Croazia siccome alle 4 dobbiamo andare dal gommista abbiamo fatto tempo solo a fare un bagnetto e mangiare e adesso stiamo già tornando quindi non abbiamo dato la parte del bagno eccetera perché è durata pochissimo abbiamo appena passato il nuovo confine tra Croazia e Slovenia e stiamo rientrando la Rez supera e io quando sorpasso non adesso una perda ogni tanto ci vuole mamma mia mi sta rientronando sta striscia mamma mia che cazzo è è arrivato quel momento dell'anno in cui fa talmente tanto caldo che come apri la visiera entra caldo tanto tantissimo bravo boh bau bohго capocco giuda fruggero 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 Vedi due leggo da qui Vedi due leggo da Sta fumando tutto L'hai aperto dal tutto Senti che fuma Che cazzo c'è che fuma? è la gomma fusa che c'è qua lì, no il fumo che è entrato nel sottosella non credo come è la gomma che sta perdendo aria, ma lo senti? le togli di casco se non lo senti hai scorciato meglio andare giù veloce devo però vedi dentro il zaino vedi dentro le goda vedi dentro le goda